Antonio, dopo uno stop di due anni causato appunto dalla pandemia, quest'anno sembra ritornare più forte di prima il torneo internazionale Città di Agropoli. Quest'anno sono 40 anni che questa realtà sportiva continua a ospitare tantissimi ragazzi provenienti da nazioni diverse. Allora, ci puoi dare delle anticipazioni? Sì, effettivamente manca, come hai detto, è peccato perché nel 2020 avevamo molte squadre straniere, una dal Bergio, da Malta, da tante altre nazioni nuove e soprattutto una dalla Svezia. Curiosità perché il sindaco, buonanima purtroppo, Mauro Inverso, voleva ospitare questa squadra che aveva scelto non Capri, Pompei come escursioni, ma Piano-Vetrale, il paese dei Morales. E' una cosa fantastica e lui si attivò subito per fargli stare a piano, pranzare, pulmonare a disposizione per visitare il suo paesino, il nostro paesino. E quindi peccato per quell'edizione. Adesso ci riproviamo. Abbiamo squadre che provengono dall'estero, dal Canada, dalla Slovacchia, probabilmente dalla Germania, ma soprattutto dalla Polonia. La Polonia è vicina all'Ucraina. Nonostante questa, quella squadra, probabilmente riuscirà a venire a pochi chilometri da Leopoli, città famosa di confine tra Polonia e Ucraina. Non solo, noi, ripigliando questo accoglimento di profughi, abbiamo messo un annuncio anche sul sito, sulle varie squadre che contattiamo, che se hanno ragazzini che vengono dall'Ucraina o qualche ragazzino che purtroppo non si può permettere un viaggio, non si può permettere un alloggio ad Agropoli, noi lo spederemo volentieri, visti i tempi. Sempre a Pasqua lo facciamo, dal 12 al 16 aprile. Cominciamo il 12, finiamo il 16 che è sabato santo.